Com'è cambiata la percezione di Amazon negli ultimi anni? A me sembra che ci sia tutta una fetta di persone che sicuramente continua a odiare Amazon, che fa campagna per non acquistate da Amazon, shop local, eccetera, eccetera. Però, secondo me, ha rallentato molto come movimento rispetto al pre-pandemia, ecco, mettiamola così. Mi sembra che adesso sia un'azienda abbastanza ben voluta, anche da chi non la utilizza spesso. Eh, questo è un cambiamento che un po' è rimasto, qualcosa di un po' più strutturale sul come noi facciamo shopping. Mi aspettavo di più, in realtà il ritorno al fisico un po' è tornato, però immagino che dalla pandemia in poi l'acquistare cose online ha avuto una sorta di certificazione. Sì, no, però dico proprio a livello di azienda, no? Cioè, tu pensi alle storie che uscivano su Amazon cinque anni fa, dieci anni fa, delle persone che fanno le consegne o che lavorano nei magazzini e devono fare, devono pisciare in una bottiglietta. Sarà che sono peggiorate le altre fang nel frattempo. Eh, può essere. Diciamo che adesso, prima c'era, ma come in Google ti pagano per fare i massaggi, in Amazon devi pisciare la bottiglietta. Eh, ho pisciare la bottiglietta pure in Google, per cui la competizione è meno… Sì, diciamo, il discorso su Amazon, secondo me, io lo vedo su di me, è che la usi e sei così contento del servizio che purtroppo sei un essere umano con morali discutibili e ignori tutti magari i problemi che ci possono essere dietro, anche se ci fossero… non riesco a vederla così, non riesco a vederla così. Cioè, non mi sono mai sentito in colpa perché usavo Amazon. Eh, però, cioè, lo sfruttamento di dipendenti nei magazzini c'è stato ed è innegabile. Adesso non so quale sia la situazione oggi. Sicuramente hanno anche fatto delle migliorie da quel punto di vista, però alcune condizioni erano indecenti. Sono stati usciti articoli aneddotici di cose singoli. Non c'è tipo lo Schwarzbook, il libro nero famoso di qualche azienda. Non ricordo se era Lidl o un'altra che aveva lo Schwarzbook, il libro nero dei dipendenti. Per cui, onestamente, non so. Io lato software ingegnere ho conosciuto persone che lavoravano in Amazon e lo software ingegnere erano ok. Sui magazzini, ok, ma quelli sono comparabili ad altri magazzini. Non lo so, non ho opinioni. Lo sfruttamento è brutto, però ho sempre l'idea che il lavoro è un accordo tra due parti. Ci sono delle regole che vanno rispettate da entrambi le parti, però c'è un libero accordo tra due parti. Non lo so, non mi sono mai sentito... Eventualmente, l'eventuale sentirsi, non dico in colpa, ma l'aspetto etico l'ho sempre solo percepito verso il negozio fisico che sta nella strada. Tipo, se compro da lì, questo chiude. Però che ti devo dire? Questa cosa qui l'ho provata quando sono a dei centri commerciali. Ti vengo dall'epoca che il centro commerciale ha distrutto la via dove abitavo. C'erano tutti i negozi simpatici, però i negozi di merda. Io ho lavorato vari estati a via delle botteghe oscure, chi è a Roma, insomma, di fronte a Cassa del Sant'Angelo. E lo vedi, era il negozio dei miei nonni, che poi infatti è fallito, giustamente. E lo vedi che quella strada è passata dall'essere. Il pizzicarolo, quello che ti faceva le scarpe. Quel negozio prima era una varicchineria, che penso sia un termine che neanche su Google lo trovi, dove facevano la varicchina. Non so neanche se varicchina è romano o se è italiano, vero. E adesso c'è un negozio, diciamo, di proprietà asiatica. C'è un altro negozio di proprietà asiatica. Poi c'è un bar che ti vende i tramezzini congelati dal congelatore del nonno, del bisnonno, del fratello. Ovviamente tutto è leggerli, eh? Certo, certo. Lì non esiste più niente, perché chi te lo fa fare di andare nel negozio che vende cose di tutti i giorni a piedi quando prendi la macchina, vai al supermercato e è tutto lì dentro. Però ecco, io nonostante questa storia, nonostante questa storia, quel senso di colpa non lo sento. Cioè io mi dico, ok, quel negozio doveva fallire perché non è stato a passo con i tempi e non dava quello che la gente voleva. Sono d'accordo un po'. Un po' mi dispiace perché c'è un attaccamento che conoscevo le persone che lavoravano lì. Quando, diciamo, sono falliti i centri commerciali, perché stanno fallendo, non dico quasi, ho detto ben vista. Quindi io avendo vissuto uno step precedente che, diciamo, i negozi online distruggono i centri commerciali, sono solo che contento, un po' mi spiace che c'è un po' di monopolio, possiamo dire questo qua. Questo è un po' il problema, che c'è il monopolio. Poi vivo in Svizzera in realtà, ho altri monopoli a riguardo, per cui in Svizzera l'online Amazon non c'è, puoi comunque comprare, ma non c'è, per cui percepisco in realtà più shop online, non sono monopoli, diciamo, sono monopoli per settore. Però, non lo so, a me, mi ha svoltato, e che cazzo c'è a voglia di andare a giro per negozi? Da quanti pomeriggi ho perso da giovane andare a giro per negozi? Sì, no, quella è una bella scocciatura. Ho sbagliato il nome della strada, infatti era Banco di Santo Spirito, non Bottega Oscura. No, diciamo che, e poi anche questa concessione di Amazon a tutto il mercato dell'e-commerce è sbagliato, eh. Perché? Guarda, adesso vediamo se ci sono dati aggiornati sull'Italia, o anche share of e-commerce, ma comunque più della metà degli acquisti online, anche in America, continua a passare da altri siti. Ok, questo, chiaro, si parla di una percentuale enorme, però voi considerate che già la maggior parte degli acquisti è comunque fatta offline. della percentuale più piccola di acquisti, fatta online, Amazon ha il 37%, non l'80%. Poi c'è tutta una long tail di grandi aziende, come Best Buy, cose, e poi c'è una long tail infinita di store e-commerce che vendono 0,001% dell'e-commerce. Quelli chiavi in mano dai guru di Dubai. Dici che è ancora una piccola frazione di acquisti fatti online, anche in America? Tu hai sortito dicendo che la parte di acquisti online è piccola rispetto agli acquisti fisici, sicuro? Se studiamo acquisti di case, forse di automobili, per il resto lo shopping tradizionale, secondo te in America non è più del 50% online? No, forse è una stupidaggine, dico. No, qualche anno fa avevo qualche dato in più su queste statistiche. Sono curioso, quant'è la percentuale di soldi che spendiamo? Lo facciamo online, sono curioso. Se escludiamo le cose, l'affitto ovviamente no. Allora, adesso al volo così ho trovato Europa. Retail, online offline split. Ah, madonna. Sì, 10%. Chiaramente Europa è diverso da Stati Uniti. Beh, stiamo assalendo... Eh, 2027. Eh, sì. Per assoluto nel 22 è scesa questa percentuale. Perché è finita la pandemia, tra virgolette. Sì, è finita la pandemia, ecco, però per esempio qui. Questo è l'ora. Online versus offline purchases by category in the US. Clothing and shoes. Wow. Vestiti è la percentuale dove sicuramente si compra di più online, 36%. Scarpe 31%. Pensate lo scarpe... Ma sono stupito. Ricordo che Google stava lavorando molto sull'apparel online, Google Shopping, ma onestamente vedere in cima tre categorie di apparel rimango stupito. Pensavo che books, movies, consumer electronics, accessori... Eh, però alla fine... Cioè, i vestiti la gente ancora li andava a provare nei negozi. Pensavo di essere io atipico, che non mi provo più vestiti, che non me li compro neanche. Però... Secondo me quello che è successo è che questi sono tutti tanti compulsive shoppers, persone che acquistano 50 volte al mese fast fashion, acquistano da Shein, da... C'è gente che compra il telefono da un negozio fisico? Eh, secondo me, fuori dalla nostra bolla, tanti, sì. Anch'io sono rimasto un po' sorpreso, però... Aspettavo elettronica a 100%, chi cazzo va a comprarsi un computer da un posto che ti potevo riportare a casa? Cioè, onestamente. Vabbè, ok. Sì, a quanto pare succede ancora. Bello, bello. Anche i cosmetics sono sorpresi... Cioè, pensavo leggermente più alto, invece no, forse... Ci sta perché lì hai un recurrent... Tipo, ti piace un rossetto, ti ricompi lo stesso, no? Mentre un vestito o delle scarpe ogni volta sono nuove... Infatti, mi aspettavo più alto. Cioè, mi aspettavo più alto cosmetics e body care. Perché hai detto, ok, cioè, tu trovi la tua crema per la pelle, magari la prima volta... E ti ricompi la stessa, certo. Ma la prima volta il blush te lo provi lì e te lo compri direttamente. Però è interessante la demografia. Qui c'è il volume di spesa anche, c'è chi chiede, potrebbe essere interessante. Ah, il volume di spesa... Magari, adesso sarà difficile da trovare. Comunque posso garant... Non lo garantisco, però non mi ricordo. Rivelo la chat che io amo questi momenti quantitativi nel nostro tablerone. Quando tiriamo fuori... Facciamo domande su numeriche e andiamo a controllare le cose. Mi piace tantissimo questa parte quantitativa. Secondo me il valore degli acquisti offline è più alto rispetto a me. Consumer Electronics, diciamo, smartphone, tv, forse come categoria è la prima. Dai. Perché comunque l'acquisto medio è più alto che l'acquisto di clothing. Dipende, sì. Dipende. Però ecco, io ricordo quando... ho, diciamo, in passato ho creato... ho ideato un piccolo prodotto che vendevamo a e-commerce e molti di questi e-commerce erano e-commerce, erano business tradizionali, no? Specialmente in Germania e per esempio una delle... uno delle varie proposition che avevamo per un brand tradizionale come Pierre Cardin era avvicina il tuo valore medio del carrello online a quello offline. perché che succede? Tu entri nel negozio di Pierre Cardin e hai la persona che ti viene a dire ah, vuoi provare questa maglietta, vuoi provare questa felpa e anche quelli come me e te che magari non adorano questo tipo di interazioni comunque si sentono invogliati a spendere di più oppure si sentono in colpa a non comprare addirittura perché dici questo mi è stato appresso mezz'ora che faccio. Ah, che erano le motivi perché io odiavo anche andare in giro a fare shopping a avere commesso la commessa che arriva e ti dice serve una mano no, muori non lo voglio e quindi secondo me è ancora più alto offline l'average card value Chi è Eldor? Io il telefono l'ho comprato da 1 euro perché mi costava 20 euro in meno rispetto allo store di Google quanto tempo ci hai messo per andare all'1 euro quanto ti è costato in tutto il resto cross selling dal vivo ok, bene il resto è stupito c'è chi dice che in America però sui telefoni funziona diversamente quasi nessuno lo compra lo prendi dalla tua lo prendi in bundle con con l'abbonamento telefonico cioè è ovvio sì magari sì ok sì poi magari c'è anche il discorso del quando li fai certi acquisti stavo pensando adesso all'elettronica e effettivamente anche io la televisione contro la mia volontà però l'ho comprata in negozio perché magari hai appena comprato casa devi rinnovare casa e quindi vai dal media world di turno e ti prendi il microonde ti prendi il televisore ti prendi tutto quanto insieme quindi forse anche quello fa un po' la differenza ci sta ci sta ci sta ti prendi il microonde